Mi sono diversi da tantissimo. Un'altra cosa ci tenevo a dedicare, anche se ovviamente è una sciocchezza quello che sto facendo io, ma ci tenevo a dedicare questa vittoria alla ragazza che ieri è stata trovata morta, Giulia. L'ennesima ragazza vittima di violenza da un uomo. E questo argomento mi sta molto a cuore e quindi ci tenevo a dedicare la vittoria a lei, alla famiglia, agli amici e niente. Grazie a tutti. Grazie, grazie Gaia. Abbiamo visto in questi giorni infatti delle riflessioni sui tuoi social per questa cosa. È qualcosa che non ci può lasciare indifferenti e ha colpito in particolar modo. Sì, assolutamente no. Sono più di cento le vittime ormai da inizio anno ed è una cosa che ho seguito in modo ossessivo ogni giorno. Perché è scomparsa da una settimana e ieri mi si è completamente spezzato il cuore. Quindi ci tenevo a fare questa dedica, anche se so che non vale molto, ma ci tenevo a dimostrare la vicinanza.